Un'altra avventura passata con i Gadget, con questa altra premiazione dei Vocalist si va con un altro grande performer, DJ, producer e anche editore perché lui ha una sua etichetta discografica con cui sta facendo uscire veramente tanti bei brani lui è Gio Bertè! Ciao Gio! Allora, oggi è un giorno speciale per Gio perché è il giorno del suo compleanno quindi un applauso a Gio e auguri! Grazie, grazie a tutti Ce l'abbiamo al tanti auguri i soldi È un'onore per me passare qui il compleanno perché già da qualche annetto l'evento è sempre del giorno del compleanno E capita sempre del giorno del tuo compleanno È vero, capita sempre il 3 di giugno, io l'ho diventato Esatto Esatto Messeggio qui con tutti voi quindi non c'è niente Vai, vai, gliela cantiamo questa canzone tutti insieme? Wow, sì! Tanti auguri a te Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Continuita ad emozionare, ragazzi Gio Bertè, grande! Tanti auguri a te Grande Gio! Tanto lui si emoziona sempre con lo senza canzoncina È per questo che ci piace perché lui si emoziona ogni volta che cassa E allora, credo che stiano preparando tutto alle tue spalle Ah, è lui stesso che prepara tutto alle sue spalle, bene? È lui, sì! Quindi fa tutto lui ma nel frattempo Credo che abbiamo qualche minuto Quindi io a questo punto chiamerei anche l'assessore del... No? Facciamo dopo? Sì, facciamola adesso No, facciamola adesso, certo! Perché rimandare? Quindi chiamiamo il nostro Salvo Mannino qui al centro Perché è stata fatta una bella compilation Tra l'altro questa compilation c'è anche un brano che un po' mi riguarda Ah sì, che brano è? Sì, eh! E questa è la compilation del Capodanno di Taormina Che vede anche la collaborazione di Davide Chio e il ballo del cannolo Io quindi, essendo produttore di Davide Chio, giustamente, hai visto Ogni tanto... Infatti... Rientro dentro questi progetti che sono veramente molto belli Poi è stato un Capodanno davvero da favola Quello di Taormina Eh, si sono divertiti in piazza, figurati Infatti, Salvo Mannino, è stasera qui a Ramacar Show Per ritirare il premio come migliore evento 2018 Che è appunto il Capodanno Taormina Esatto, un premio che andiamo a consegnare subito insieme al nostro Maurizio È una disperazione Maurizio oggi Allora, arrivo subito Ah sì, è là come una balletta Allora, arrivo subito Ma tu devi essere una balletta scattante Arrivo subito, questo è un menzino d'onore Ma guarda, ecco Ok, ringrazio Grazie Allora, per la presenza di Trapolis Allora, Ramacar Show e a Sisi Music Hour Foto di rito fatta? Yeah! Bene! Salvo! Salvo, altre cose da organizzare, belle come il Capodanno? Eh sì, ci stiamo preparando per i grandi eventi Intanto, nell'estate 2018 Non ci saranno tanti eventi Al Tietro Antico di Taormina Faremo una grande promozione per tutti gli eventi big Anticipo ci sarà Fiere Loranoia, Gianni Moranni, Gianni Rami Insomma, ci saranno tanti artisti Sono tanti gli appuntamenti degli artisti di questa estate a Taormina E vediamo, magari pensiamo alle spiagge di Taormina E scusa, fanno il Capodanno Devono anche fare il Ferragosto Prima o poi ci vuole Siamo al Capodanno 2019 Quindi Ah ecco, già pensiamo al Capodanno 2019 Chissà che magari Non ci sia anche il nostro Maurizio E chi lo sa? Scusa, poi la sua macchinetta magica Magari con la sua stranave Con la sua stranave Bene, allora Grazie, grazie Salvo Grazie Salvo Mannino Buon lavoro Ciao, grazie E adesso siamo pronti per l'esibizione del nostro Gio Bertè Signorasi, signores Gio Bertè Patì Ci siamo Buonasera Catania Buonasera Etnopolis In questa fantastica serata Esclusiva ufficiale Primo brano Per Gio Bertè Tutto italiano Un successo Tutto live Cigli la spada Il tuo corpo che con me si muove lento E che sconvolge Il mio cervello Aspetterò che cali il sole Fino al tramonto e le do il son Stanno tornando dal mare Vibrano le anime De stare Le vedo i denti a camminare Scordandosi dal corpo e sale E questa notte Non tarda Siamo le anime De stare Siamo noi Siamo noi stasera Fortuna Che ci sei tua ancora Siamo noi Siamo noi Siamo noi stasera La luna La luna Siamo noi Siamo noi Siamo noi Siamo noi stasera Siamo noi Siamo noi Siamo noi Siamo noi stasera Cosa indosserai stanotte a me non importa O il tuo sorriso che mi circonda E i tuoi capelli che asciughi al sole anche stavolta Danno alla mia testa una rivolta Adesso che è calato il sole provi ancora a ricordare Quella canzone, l'amore che scordi sempre le parole A piedi nudi a sognare davanti al fuoco e riparmare Questa notte non tardare, siamo le anima e stai Andiamo a cantare tutti! Siamo noi, siamo noi, siamo noi stasera Fortuna, perché sei tu ancora Siamo noi, siamo noi, siamo noi stasera Catania E adesso andiamo con quello che facciamo di solito Siamo noi, siamo noi, siamo noi stasera Andiamo con un po' di energia Si riparte Questo è l'esclusione, lo savo, tagliate il giorno per te Speciale rock è la show del 2018 Senti come suona, senti come suona Senti come suona Senti come suona C'è per te selection, c'è per te production Gira spada, la voce almeno Un pezzo che sicuramente si sentirà suonare per tutta l'estate E naturalmente anche cantare Con la sbagliata voce di Giorno Spada Adesso proviamo a cantarla tutti per l'ultima volta Voglio ascoltare le vostre voci Siamo noi, siamo noi, siamo noi stasera La luna Siamo noi, siamo noi, siamo noi stasera Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi stasera Stasera la luna Grazie mille Grandissimo Signor e signores Joe Verte Pa' Ti Bailando Bailando Muévelo, 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 muévelo Bailando Qu'oi qui mi piace, —que te piace, —bail 표현i Qu'oi qui mi piace, Ali Qu'oi qui mi piace, —bailando Gas early S권 le Ros Negri Mi piace Qu'on Juiz Buon 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 l'energia 100% che si trasforma in movimento, questo è il suono in esclusiva e questo 3 giugno 2018, Ramacan Show 2018 spettacolo e questo mi piace, mi piace, mi piace alziamo tutti i volumi così si sentono di più, tutti i volumi, alziamo al massimo e qui si muove l'ombelico, si muove l'ombelico, è un po' come una danza del ventre e questa è esclusiva, la salutiamo per la prima volta proprio qui all'Etnapolis, questo è fresco fresco perché c'è per te come al solito, non dorme mai, non prende neanche il sole, lo prendo tutto io e il DJ che sta suonando e ora balla questa musica tremenda Diana che è una musica tremenda e ma che nonostante questa scena sia il suo compleanno, Giobertay vuole regalare il CD ecco, le compilation di Giobertay su CD esatto, compilation per tutti però mi raccomando non fatele volare le mani in aria, su, 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 mandate la compilation, vuole lasciare la cadere ecco, ecco Giobertay come sempre dai fuori toro Ehi, estoy bailando Catania, questo è qualcosa questo è qualcosa special questo è qualcosa special for you are you ready? wow, grazie ragazzi grazie ragazzi, grazie Catania Maurizio grazie Etnapolis grazie, grazie, grazie è stato un piacere Giobertay, gira spada al Deno grazie non scappate perché c'è ovviamente il premio anche per voi il premio lo consegna come sempre il nostro patron scusi, deve, signor Maurizio prego scusatelo ragazzi si siamo è stato un po' più pazzo del solito a Giobertay come miglior DJ produttore 2018 premio della Glow Record e poi abbiamo altre due targhe importanti si, a Gio la spada premio come brano italiano rivelazione 2018 ovviamente sempre per la Sicilia e al Dino come miglior vocalist 2018 quest'anno abbiamo questo nuovo premio e mi sembra anche giusto premiare quanti fanno gli speaker in discoteca quindi è uno dei The Voice siciliani più bravi diamo con la foto eccoci si tieni Maurizio ti scendi il mio microfono volevi dire? allora devo ringraziare Giobertay perché mi ha seguito nella produzione della compilation Cecil Music Award nella nella colografia del scusami mamma mia la stanchezza ripetito faccio io dai siccome da tanto tempo che sono presente ogni anno quest'anno mi autopremio e presenterò anche io va bene quest'anno per la prima volta abbiamo realizzato una compilation a livello mondiale del premio Sicily Music Award appunto per farlo crescere e farlo conoscere in tutto il mondo Maurizio mi è stato accanto e ha supportato questa mia idea e proprio oggi appunto abbiamo regalato il cd ufficiale e giorno 11 uscirà su tutti i digital store quindi iTunes, Bitboard, Spotify e quant'altro appunto per far crescere la nostra Sicilia e farla conoscere in tutto il mondo quindi vorrei fare un applauso a Maurizio che fa in modo che tutto questo accada grazie grazie ancora a Giobertay un attimo perché c'è una cosa particolare da fare un attimo pensiamo di vedere una cosa eeeh ancora vediamo cosa abbiamo allora un grande amico che oggi fa il compleanno cosa si potrebbe fare? beh bisogna festeggiare aprendo una bella bottiglia cosa si potrebbe fare? eh ci sta si potrebbe aprire una bottiglia di sfumante per per fare gli auguri oggi a Ramakrasho per cui questo è un giorno memorabile capita sempre nel compleanno di Giobertay abbiamo aperto con tanti auguri e chiudiamo con questa bella bottiglia ecco forse è meglio se dai ok effetto effetto è questa col botto è meglio se dai il microfono a Roberta non si sa mai nella vita esatto sfumante ma quanti sono? quanti sono Gio? sono 18 per la cronaca sono sempre 18 già da tanti anni è da 18 anni che dice 18 eh forse da un po' di più ecco buon compleanno a Giobertay oeeh auguri non ci sposa nessuno entro l'anno perché il tappo è andato a finire esatto e meno male eccolo la grande cosa questo è quello che succede proprio nelle discoteche eh tra l'altro ma dai non è proprio così non è proprio così bene 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 grande finale grande chiusura di questa esibizione di questa premiazione a Giobertay complimenti a tutti e tre ragazzi davvero di cuore ciao siamo pronti ci sarebbero delle premiazioni veloci da fare anche ragazzi che si sono impegnati a questo audio raduno a Ramakarshaw 2016